Sarà una giornata molto lunga e sarà una giornata molto lunga perché c'è davvero qualcuno che crede che la Roma possa esonerare José Mourinho da qui alla prossima partita, se ne parla, se ne parla concretamente, se ne parla continuamente, se ne parla anche in modo piuttosto sostenuto, permettetemi di sentire, permettetemi di definire la follia perché di follia si tratta, oggettivamente di follia si tratta. Mourinho dal mio punto di vista non lascerà la Roma e difficilmente i Friedkin faranno una mossa così tanto impopolare, oltre che costosa, come esonerare José Mourinho quando tra l'altro tra sei mesi il contratto va in scadenza. E' una follia, non succederà, ma andiamo per gradi e analizziamo un po' tutto perché sono veramente stufo, sono veramente 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 stufo di tutta questa situazione. Faccio video perché è l'unica cosa che mi resta da fare, è l'unica cosa che mi dà possibilità di sfogarmi un pochino, ieri c'è stata la live reaction di Mila a Roma 3 a 1, poi il post partita che tra l'altro è il decimo in tendenza, e dunque il day after di stamattina che a molti non è arrivata la feed, recuperatevelo se non l'avete visto, e adesso questo, adesso questo. Dopo la gara c'è stato un confronto tra la squadra e Mourinho, nello spogliatoio con i ragazzi, ma chissà che gli avranno detto siete dei coglioni, perché insomma l'andazzo è così, siete delle merde, perché l'andazzo pari sia quello lì, cosa che non condividerei, non so cosa si siano detti nello spogliatoio Mourinho con i giocatori, mi sembra tanto un'attività molto teatrale, cioè è tutto molto teatrale, alla Roma è tutto molto teatrale, e personalmente non è una cosa che mi fa impazzire, ieri sembrava potesse saltare, già da ieri sera sembrava che Mourinho potesse saltare, adesso sembra che Verona e Salernitana saranno le ultime due occasioni, addirittura due, per salvare la panchina, bah cioè nel senso è un po' come dici, vabbè dai, quest'anno hai fatto zero gol, però, però nel match contro il San Marino, se partecipi a un'azione da gol ti confermiamo, ecco, ma non perché necessariamente Verona e Salernitana ci vanno a fare una passeggiata, però, insomma sono le ultime due della classifica, se non fai almeno 4 punti dovresti dimetterti e poi prenderti a schiaffoni da solo, no? Quindi questo è, diciamo che sarebbe stato poco generoso, dico la verità, un esonero dopo Fiorentina, Bologna, Napoli, Juve, Atalanta, Lazio e Milan, Napoli, Juve, Atalanta, Lazio e Milan, sarebbe stato poco giusto, no? Perché comunque che possibilità gli dai? Però dall'altra parte, ragazzi, in queste sette partite la Roma di Murigno ha fatto una vittoria, due pareggi e quattro sconfitte, sei uscito dalla Coppa Italia, sei almeno 4 dalla Champions League, ma ora ne parliamo, ora ci arriviamo, il problema di base non è, non è, non sono i punti, non sono i punti, perché dico, ora ci arriviamo, perché dico che sarebbe ingeneroso cacciarlo adesso? Sarebbe ingeneroso perché chiunque dovesse arrivare oggi, anche che arrivo io, cioè, tu comunque, ora c'hai Ella Sverona, Salernitana e Cagliari, e grazie al Piffero che fai meglio delle ultime uscite di Murigno, grazie, le ultime erano Milan, Lazio, Atalanta, Juve, Napoli e Bologna e Fiorentina, cioè, nel senso, non mi sembra ci voglia molto, no? Non mi sembra, poi puoi pure perdere tutte e tre le partite, ma aspetterei questo anche da questa Roma quest'anno, eh, non rimarrei basito dal vedere la Roma perdere anche contro ste tre o fare due punti in tre partite, è perfettamente in linea con la Roma, poi il Verona in casa, il Cagliari, se non sbaglio, anche egli in casa, cacciare Murigno oggi, vi dico la verità per come io la vedo, purtroppo è completamente inutile, per me, è completamente inutile, è inutile che fate i proclami, è inutile che venite a dire, eh, quanto ancora dovremo aspettare per vedere Murigno esonerato, quanto ancora ci sarà da aspettare, ragazzi, ci sarà da aspettare, perché cacciare Murigno oggi, purtroppo, è inutile, è inutile, quando io mi incazzo nei video, io non chiedo, io non chiedo mai, mai chiesto l'esonero di Murigno, per tanti fattori che adesso andremo a trattare, ma non ho mai chiesto mai l'esonero di Murigno, io chiedo, delle volte mi capita di chiedere, a Murigno le dasse una svegliata, di dimostrare che, essendo un uomo che ha vinto tutto, ovunque è stato, sarebbe quantomeno opportuno che dimostrasse il grande allenatore che è, avendo un escamotage, avendo un piano partita, costruendo qualcosa che al momento non sta costruendo, ma perché dico questo? Perché, ripeto, cacciare Murigno oggi, purtroppo, è inutile, tu non hai un sostituto pronto, rischi enormemente di fare come il Napoli con Mazzarri, voi ditemi no, Napoli ha preso Garzia, ha costruito un progetto intorno a Garzia, ha fatto una preparazione atletica con Garzia, ha fatto un calciomercato per Garzia, poi ne sono il campionato, dieci partite, hanno calciato Garzia, hanno preso Mazzarri, fa peggio di Garzia, c'ha avuto pure il Napoli un filone di partite negative, però hanno preso Mazzarri, fa peggio di Garzia, non era meglio provare a continuare con il progetto, Sic, ma che stai a dire? In quel momento lì con Garzia, tutti odiavano Garzia, infatti adesso si vede che tutti stanno in pace, amore e gioia infinita a Napoli, con Kvaraschelia che insulta, Osimène che insulta il procuratore del Kvaraschelia, e via discorrendo, cioè ragazzi, ma di che stiamo parlando? Ma di che stiamo parlando? Lì i problemi c'erano, le cose scricchiolavano, e si vede, ok? Però, aver cacciato Garzia, io lo dicevo già quando è stato cacciato, no? Per prendere Mazzarri, dici, cacciato Garzia, prendo De Zerbi, ti dico, vabbè, vabbè, io sono sempre contro, lo sapete, mi conoscete, no? Sono sempre contro il discorso di esonerare allenatori a stagioni in corso, a meno che non sia una situazione disperata, perché comunque tu non hai fatto quella preparazione lì, non hai fatto quel calciomercato lì, prendi in mano una squadra che non è la tua, quindi ha poco senso, ok? Però dici, cazzo, vado su De Zerbi, me lo assicuro, vado su Antonio Conte, me lo assicuro, quest'anno sarà una situazione transitoria, dall'anno prossimo però la prende lui in mano la squadra, lì è diverso, no? Lì è completamente diverso, ma che tu vai e prende Mazzarri, ma è una cosa che non ha né capo né coda. Io ripeto, il problema, e lo dicevo prima, il problema non è la classifica, diciamocelo con grande carezza, il problema non è la classifica della Roma, non lo è mai stato, il mio problema non è vedere la Roma nona, perché la Roma è nona in classifica, perché se fossimo noni a meno 5 dall'ottavo, a meno 7 dal settimo, a meno 6, a meno 9 dal sesto, vi direi che è una situazione irreversibile per la classifica di quest'anno. Sei nono, ma c'hai un punto dall'Atalanta, c'hai due punti dal Napoli campione d'Italia, c'hai quattro punti dalla Lazio, che sembra che la Lazio stia facendo la stagione della vita, vabbè, la Lazio sta facendo bene in semifinale di Coppa Italia, ottavi di Champions League, è una grande stagione, però sei a meno 4. La Champions League, che è in questo momento della Fiorentina, perché la Fiorentina è quarta, e per me crollerà, o comunque rallenterà, è a più 5, cioè, quindi non è che stiamo parlando di... Il problema non è la classifica, il problema, e ve lo dico con il cuore infranto, ve lo dico proprio con le lacrime agli occhi, il problema è proprio la gestione dell'allenatore. Le richieste non in linea con le possibilità, perché Mourinho ha voluto una Roma A, e invece i Friedkin potevano permettersi, per via di discorsi di fair play finanziario, di gestione di squadra, di tante problematiche, una Roma B. Una Roma B che non è stata mai, e sottolineo mai, nei pensieri di Mourinho, non è stato capace di adattarsi. La poca, poca, poca capacità, poca capacità di far performare giocatori che avrebbero dovuto performare per quanto andava a pagare un allenatore. Guardate, io ve li ho divisi in sei punti, le grandi colpe di Mourinho, in sei punti. Punto numero uno, la fissazione della difesa a tre. Mourinho non è mai stato un integralista, e nella sua carriera non ha mai fatto la difesa a tre. C'è stato un momento, due anni fa, dove era obbligatorio andare a fare la difesa a tre, per i giocatori che avevi, e per le possibilità che avevi. E lui ci ha messo un botto per togliere la difesa a quattro e passare alla difesa a tre. Una vita ci ha messo, ok? Dal momento in cui ci ha messo questa vita per passare alla difesa a tre, oggi è chiaro, come dopo due anni di pizze sul culo, la Roma debba cambiare modulo, abbiamo due difensori contati, abbiamo degli esterni che non sono esterni ma sono terzini. Ragazzi, sono cambiati i tempi, hai perso determinati calciatori. Ci avevi davanti Edin Dzeko, ci avevi in mezzo al campo Mkhitaryan. Ci sono cambiati i tempi, avevi dietro anche i Bagnets che per quanto facesse casino ai derby erano difensori molto molto veloci, oggi hai difensori molto più lenti. Metti Mancini e Ndiga centrali, gioca largo con Selic e con Christensen. Poi se so due destri, chi se ne frega, perché l'altri stessi non ti schifo. Fai una difesa a quattro come se deve, compatta, granitica. No sta difesa a tre, a cazzo di cane, che non ha senso, che giochiamo sempre la difesa a cinque e gli esterni non azzeccano un cross. No, noi anche senza giocatori ce lamentiamo, perché non abbiamo giocatori per fare la difesa a tre e facciamo la difesa a tre. Perché ieri, a un certo punto, dietro ci stavano, sto riflettendo, dietro ci stavano Christensen, che è in terzino, Llorente, che è l'unico centrale e manco è tuo, che manco poi faccia il centrale ma manca sarebbe in centrale, e Christante, ah no, Christante faceva il centrale, faceva il braccetto, Llorente, e Christante, che è il centrocampista, per l'altro ha arrivato a Roma, c'è il trequartista, poi la mezzala, poi il mediano, poi il difensore, moment, muoce tra la porta, Christante, un altro po', e finisce dietro la porta, Brian Christante, ok? Perché? Perché non puoi passare a quattro? Perché non puoi avere il coraggio di giocare a quattro quando bisogna giocare a quattro e a tre quando bisogna giocare a tre? Secondo punto, le richieste esose. Mourinho ha fatto, non sembra, ma Mourinho ha fatto delle richieste esose, esose. Noi siamo il terzo Monteingaggi, il terzo Monteingaggi del campionato. Una squadra che arriva sesta, settima, poi sesta perché la due viene pedalizzata, e che adesso è nona, poi vedremo come finisce il campionato perché mancano ancora 18 partite. Non può avere il terzo Monteingaggi del campionato. È vero che la Roma prende a parametro zero, quindi da qualche parte la bilancia deve pende, ma capite che per fare le cose in linea Madonna che botto. La prima c'è il primo Monteingaggi, la seconda c'è il secondo Monteingaggi, la terza c'è il terzo Monteingaggi, la quarta c'è il quarto Monteingaggi. Voi direte, ma il calcio non è una scienza esatta, sono d'accordo. Però se il terzo Monteingaggi arriva ottavo, ha floppato. Se il settimo Monteingaggi arriva terzo, ha fatto un miracolo. Così funziona, eh? Così funziona il calcio. Quindi queste richieste esose non sono mai state sfruttate, perché a Roma ci sono calciatori che percepiscono un botto dei sordi, ma proprio un botto dei soldi, Auar, Paredes, Renato Sanchez, che so, figurine, che so, mezzi calciatori. E questa cosa, oggettivamente, poi si va a ripercuote su quello che è la Roma. Terzo punto. Richieste di un mercato folle che hanno portato la Roma ad essere quella che è oggi, cioè sotto il controllo del fair play finanziario. Perché la Roma è il primo anno di Mourinho, sotto richiesta di Mourinho che vuole l'instant team, che non è capace di valorizzare quello che c'ha e che vuole che gli venga rivoluzionata la squadra, spende 120 milioni di euro, prendendo nell'ordine Tammy Abram, forse uno dei pochi, l'unico anziché che si esarva, anche se poi è rotto da un anno, e l'anno scorso ha fatto una stagione ridicola, Shomurodova a 18 milioni, Kumbull a 23 milioni di euro, Matias Vigna a tipo a 12 milioni e Reynolds a 7 milioni. Questa è stata la fantastica campagna acquisti della Roma. 120 milioni buttati nel cesso, tra l'altro, di calciatori giovani, perché Abram aveva 23 anni, tipo Shomurodo, vabbè 26, Kumbull ce n'ha ancora 23, figuriamoci, Vigna è ancora giovane, Reynolds è ancora giovane, che Mourinho, nonostante tutto, non ha saputo valorizzare. quattro, poca fiducia, poca fiducia, è la verità. Ora, non voglio dire che Mourinho non abbia valorizzato nulla, perché quelli che voleva lui, i ragazzini, super ragazzini, li ha valorizzati, però, nei giovani, Mourinho, nei tuoi giovani, ha avuto poca fiducia, o comunque nei calciatori che potevano arrivare ad essere qualcuno, ha avuto poca fiducia, e questo, è fattuale, è fattuale, tu la maggior parte dei calciatori giovani che avevi, non è che li hai venduti, li hai svalutati, e poi li hai persi, alcuni a poco, altri a zero, Borca Majoral, che adesso sta facendo 40 gol a stagione, Villar, Cingy Zunder, Justin Kluiver, Calafiori, Zaniolo, Carles Perez, Solbacken, ora, voi direte, siccome avessi detto Messi e Ronaldo, no, però con la giusta valorizzazione, chi più chi meno, tutti questi ci avrebbero fatto comodo, io oggi Majoral davanti me lo metto, oggi, visto che a centrocampo c'è un Renato Sanchez e a Ward sempre rotti, Villar nelle rotazioni mi faceva comodo, un Derek Kluiver da buttare a partita in corso, mica male, Solbacken, se l'avessi valorizzato, che quando aveva affrontato noi sembrava Saladani Ibrahimovic, mica male, non lo hai fatto, non sei stato capace di farlo, l'unico giudatore con il quale è un po' monetizzato un pochino è stato Zaniolo, ma Zaniolo l'hai venduto perché per tutti i problemi che si erano creati con Roma, con la piazza e con tutto quanto. Punto 5, la scarsa capacità di aver fatto integrare le seconde linee. Per Mourinho esistono solo i titolari, solo i titolari, lui non ha mai avuto problemi a dire tipo è però è colpa di quello, i panchinari giocheranno solo quando i titolari moriranno, oggi le riserve mi hanno tradito, i giocatori della Roma che non sono titolari non si sono mai sentiti, mai, mai sentiti, mai sentiti all'altezza di poter essere definiti tali. Mai, mai sentiti. Ed è la verità, vi parlavo di Solbaccaen, Solbaccaen è arrivato, quante partite ha fatto? Cioè come fate a dire che Solbaccaen non era da Roma? Probabilmente non lo era, ma come fate a dirlo? Che non l'abbiamo mai visto. Shomurodov ha fatto male anche allo Spezia, però tu ci hai investito 18 milioni per fare e fa 4 partite in croce. Borca Maioral. Raga, Borca Maioral l'anno prima di Mourinho ha fatto 22-23 gol stagionali. È arrivato Mourinho, zero presenze. Zero presenze. Ma Belotti stesso, ma Belotti stesso che ti può servire, è comodo, lui mi fa tenerezza, va in conferenza, dice io c'è tu, io verso la cessione io non so nulla. figurate io, lo stesso Asmoon, quante volte dico, va perché Amazon non gioca titolare, deve giocare di bala con una gamba che ha 20 minuti d'autonomia e sto poveraccio di Asmoon quando entra fa fuoco e fiamme, fa ferro e fio e fuoco e non lo vediamo mai. È la verità. Posizione numero 6, non esiste gioco. Non esiste, la Roma non ha gioco, non ha piano B, non ha niente. La Roma parte banco da dietro, lancia verso Lukaku che è sempre isolato perché poi si va a dire che Lukaku sta giocando male. Ragazzi, Lukaku sta facendo i miracoli, Lukaku noi lo prendiamo, lo frulliamo in attacco, lo lasciamo lì e lì speriamo che lui faccia qualcosa, gli lanciamo 240 palle addosso con lui che è coperto da 7 o 8 calciatori che lo ingabbiano, che gli all'anticipano di testa, che lo tengono per la maglietta giustamente, che gli fanno la gabbia intorno e questa è la Roma. Questa è la Roma. Questa è la Roma. La svalutazione della Roma nonostante abbia speso 120 milioni all'arrivo di Murigno si vede con il cambiamento sul transfer market. Anche prima di Murigno la Roma arrivava settima. È la verità. Eppure l'anno precedente all'arrivo di Murigno a Roma tiro qua il microfono la Roma valeva 395 milioni di euro come rosa anzi lo metto proprio di qua il microfono 395 milioni prima che arrivasse lui. L'anno dopo il primo anno di Murigno 381 milioni per transfer market dopo il secondo anno di Murigno 361 milioni quindi 395 381 361 quest'anno 325 milioni cioè tu praticamente nel triennio di Murigno sei passato ad avere una rosa che valeva 400 milioni ad una rosa che vale 325 milioni raddoppiando il monte in gaggi tu sei in una situazione pessima. Prima che arrivassi Murigno i quattro giocatori che valevano il più della Roma erano Pellegrini 40 milioni Zaniolo 40 Veretù 33 Mancini 30 questa gente o ci ha litigato Zaniolo e non ci ha fatto 40 milioni o si sono svalutati per colpa di un gioco pessimo Pellegrini e Mancini che oggi non valgono mai 40 e 30 milioni oppure li hai fatti morire io vi voglio ricordare che l'anno prima che arrivassi Murigno Veretù valeva 33 milioni di euro su transfer market dove è andato Veretù dove è andato Veretù l'anno dopo avevi Abram che valeva 50 Pellegrini 45 quindi era anche cresciuto sulle ali dell'entusiasmo Zaniolo 33 già l'avevi svalutato di 7 milioni i bagnets 23 hai fatto crescere i bagnets l'anno dopo vale 30 però hai Dibala mezzo rotto che vale 30 Pellegrini 35 che quindi ha perso il suo valore di 10 e Abram 40 adesso hai nei 4 che valgono di più Lukaku 35 e già questo ci fa capire che il tuo giocatore che vale di più è Lukaku 35 prima avevi Abram 40 Abram 50 e Pellegrini 40 quindi mai così bassi e manco è tuo perché Lukaku non è tuo Abram 35 che è rotto che quando è arrivato valeva 50 poi 40 e poi 35 Dibala 25 si è svalutato di 5 milioni di euro Pellegrini 25 io lo ricordo a Pellegrini 45 35 25 l'anno prossimo vale 15 Pellegrini che cosa vuol dire che cosa vuol dire questo ragazzi è spiegato non mi sto inventando niente il rinnovo non arriverà a meno che serve che adesso fa un filotto clamoroso ci porta in Champions League va bene in Europa League fa una stagione in cui tutti è il grande rinnovo proprio perché per grazia ricevuta perché i tifosi si allegano ai cancelli di Tricoria ma perché sennò il rinnovo non arriverà cacciare Murigno però significa due cose prendere una posizione scomoda per i Friedkin cosa che non ha senso perché per 5 tifosi della Roma che vogliono Murigno via 5 tifosi vogliono che Murigno rimanga e vanno a spada tratta con Murigno quindi cacciarlo sarebbe prendere una decisione non rinnovargli il contratto sarebbe ringraziarlo concludere il ciclo e non prendere una decisione è troppo scomoda per i Friedkin non prenderanno una decisione dal mio punto di vista e a giugno andrà via secondo motivo Murigno ha l'usanza nel contratto di inserire una penale in caso di esonero ce l'aveva al Chelsea e l'ha presa ce l'aveva al Tottenham e l'ha presa la Roma non ha i soldi in questo momento la Roma per esonerare Murigno non solo dovrebbe andare a pagare un altro allenatore ma dovrebbe pagare una penale che al momento quella possibilità non ce l'ha non ce l'ha ma la mia domanda è ma ammetti anche che tu piazzi Spinazzola ti entrano un paio dei soldi qui e lì decidi anche di pagare la penale di Murigno a che pro che adesso non ti può permettere niente cosa cambia arrivare i nonni arrivare i settimi o arrivare i sesti legalmente a livello burocratico cambia che da nono non fai niente da settimo fai la conference da sesto fai l'Europa League però nel concreto dopo tutti i stanni dei conference e dell'Europa League e dell'Europa League soprattutto è meglio fa un anno in cui ti concentri solo sul campionato così hai ricominciato il ciclo al tempo con Garzia così l'hai ricominciato così l'hai ricominciato non dimentichiamocelo quindi se devo cambiare per arrivare settimo tanto vale rimanere così che poi continuo a sentire cazzate io credo che Murigno ogni giorno si costruisca attorno un muro sempre più pressante sempre più pesante sempre più imponente ma sempre più sbagliato nel modo di costruirlo ogni giorno più sbagliato ieri prima della partita con il Milan dice siamo pochi in un momento cruciale ma non è vero ma non è vero cioè legalmente anche sì cioè legalmente la Roma ha pochi giocatori dall'altra parte però ragazzi chi gli manca a Warren di Gasmun che stanno in Coppa d'Africa o in Coppa d'Asia credo alcuni Asmun sì vabbè comunque in Coppa d'Asia o in Coppa d'Africa perché stanno giocando su tutti e due questi erano asiatici e africani anche quando aveva comprato i te non è che all'improvviso si è svegliato ma sai che c'è su africano oh e quindi sono partito su asiatico no non è andato esattamente così no lo erano già quindi quando tu hai fatto il mercato avevi messo in conto che Asmun a un certo punto sarebbe partito che Indica sarebbe partito e che a Warp e Fortuna sarebbe partito poi ce ne sono altri due Kumbull e Abram che sono rotti da un anno e qualcosa da 8 mesi che 9 mesi comunque erano rotti tutti e due già dalla scorsa stagione quando hai chiuso il calcio mercato estivo sapevi che anche Kumbull e Abram al gennaio non li avresti avuti quindi tu sapevi che dietro te sarebbero mancati Indica e Kumbulla a centro campo Awar e davanti Asmun e Abram posto poi che questi tanti questi tanti Awar andiamo a visto un campo Abram e Kumbulla salva di cielo Asmun quando c'è nullo metti Dica lui si per resto veramente e gli unici realmente infortunati sono Renato Sanchez che tanto è sempre rotto Di Bala e Smalling che sono proprio gli evergreen dell'infortunio loro sono sempre rotti non è che stiamo parlando di qualcosa di speciale non c'è niente di straordinario in tutto ciò loro sono sempre rotti per questo vi dico che questo discorso che Mourinho fa siamo pochi nel momento più importante non è vero siamo gli stessi da inizio stagione siamo quelli Di Bala fa 21 di quando gli aggira Renato Sanchez non l'abbiamo mai visto quelli che sono partiti sapete che sarebbero partiti lo sapevi già si è parlato di Daniele De Rossi io oggi l'unica soluzione per cui accetto che arrivi De Rossi in panchina è per eventualmente traghettare la Roma fino a giugno e poi vederlo inserito nello staff come secondo ufficiale di Antonio Conte si fa due anni tre anni come vice di Antonio Conte a Roma cosa quasi impossibile il caro Mancianalira figuriamo se si riesce a prendere Antonio Conte ma vabbè e dopo può fare il primo perché oggi lui viene a Roma ad allenare gli metti in mano un ciclo un progetto a Daniele De Rossi che ha allenato solamente una squadra alla spal che poi è retrocessa in C si brucia lui se bruciamo noi e brucia anche quello che hai costruito con Daniele De Rossi tu De Rossi lo porti perché nel caso lo porti perché i romanisti ma è che me tocco i murigno e allora io faccio sold out solo con De Rossi famo le cose fatte bene non facciamo le cose tanto perché ci piace farle qualcuno un tipo ieri in un commento mi ha scritto sicca ma dici le stesse cose sotto un video della Roma dal 2014 perché il problema è quello lì ragazzi il problema è quello il problema è quello è assurdo che Garzi Andrea Zoli Zeman Andrea Zoli Garzia forse che Zeman non aveva ancora iniziato a fare video Spalletti Fonseca Murigno qualcuno non mi sono dimenticato la Roma ha sempre gli stessi problemi siamo passati da allenatori giovani allenatori vecchi da allenatori che hanno vinto tutto allenatori che hanno vinto un cazzo allenatori che facciano i traghettatori Ranieri non mi sono dimenticato Ranieri sempre li stiamo però sempre li stiamo discorso è che o Murigno impara a fare tattica scende dal piedi stallo si rende conto che deve scendere dal piedi stallo si rinnova prendendo però magari alla Roma calciatori come Lovric Posh Falcone poi quando arrivi a fa soldi vendendo e comprando con il Moneyball arrivi a prendere Zirk Zee Samarzic Kupmeiner o così oppure questa Roma con questo Murigno una Roma che deve vendere per comprare che non c'è una lira che non può spendere con questo Murigno che invece vuole l'instantim che se uno non gioca bene non è che gli va vicino e lo rincuora ma lo insulta almeno davanti alle telecamere non vanno di pari passo non vanno non vanno minimamente di pari passo e non è una cosa che dal mio punto di vista può reggere non è una cosa che dal mio punto di vista può andar bene urge un cambiamento ciao raga